Allora, la mia passione, diciamo, c'è stata un po' da sempre quando mi sono approcciato al mondo, diciamo, della notte, vabbè, all'inizio vai a ballare con gli amici, un po' le serate, poi, meno male, mi sono indirizzato sul ramo tecno. L'approccio mio era sempre la serata, magari, più commerciale, più in voga, quando ero più ragazzino, che era la serata del momento, e poi, però, da lì ho visto che, comunque, quando andavo, è finita la serata, c'avevo sempre l'orecchio, l'orecchio critico, magari, anche parlando con gli amici, sentiva dire, oddio, ha spaccato, non mi è garbato, io, comunque, ero sempre quello, cioè, per me stesso, soprattutto, che cercavo di capire e andare a indagare, magari, il cambio, il sound, immaginarmi se quel DJ che era venuto in Italia aveva spaccato, magari, come in un'altra parte d'Europa o del mondo, quindi, c'era sempre quell'approccio più sul lato musicale, più che sul mood della serata, sul lato tecnico, ma anche proprio sul lato serata in generale, cioè, visto, tante volte si vede anche a Firenze, soprattutto, perché, comunque, siamo di Firenze, che spesso e volentieri, la serata, piena di gente, bella, soprattutto, ora, con i social e tutto, sembra che ci sia la serata bomba, però, magari, il lato musicale passa quasi in secondo piano, e io, già, da quando ero più ragazzino, notavo che mi interessava più quello, magari, più che, oh, c'era un monte di gente, che bello, abbiamo beccato un sacco di ragazzi, così, quindi, cioè, l'approccio, la mia prima passione è nata, andando a ballare, quindi, vedendo che mi piaceva, veramente, tanto, capire, indagare sul set dell'artista, sul, l'informarsi, tipo, andare a cercare, magari, i set precedenti, le produzioni, capire, un po', le varie dinamiche, come mai era in voga, come mai non era in voga, quindi, sei sempre stato più concentrato, proprio, sul lato tecnico della musica, come, quindi, performance, no, corretta, esatto, più che, appunto, ok, abbiamo fatto i numeri, abbiamo fatto la serata, Sì, anche perché ti parlo da cliente, certo, esatto, perché, magari, poi, comunque, puoi far stare bene, comunque, il pubblico, ma, lato tuo, capire, non hai fatto, effettivamente, un set pulito, magari, un set, come vorresti te, Esatto, ma ti parlo più da cliente, proprio questo, quindi, da un artista, io che andavo a sentire un artista, e lì, capivo questa cosa, quindi, proprio per quello, poi, mi è nata la passione, proprio, dentro, cioè, di far venire fuori, quello che io vorrei sentire a ballare, e quello che vorrei poter proporre alla, alla clientela, ecco, ad un me, da ragazzo, magari, ecco. Questa foto, appunto, di cui parli te, ti ha aiutato, anche, penso, molto, quindi, nella fase di ricerca, del conoscere, sempre di più, ciò che ami, e ciò che ti piacerebbe, poi, portare, perché, poi, se ti ami un certo stile, il tuo obiettivo, poi, è di farlo uscire, in modo corretto, come vuoi, esatto, esatto. Quindi, com'è nata la ricerca, e come hai trovato, poi, il tuo sound? Allora, innanzitutto, è nata, proprio, facendo, ascoltando, tanto. Non ti nego, io, ora, sono, comunque, prettamente, tecno, è il genere che mi garba a me, poi, ovviamente, può spaziare, da una roba più minima, da una roba più hard groove, da una roba più oscura, tagliente, comunque, si spazia nel lato tecno. Non ho iniziato con quello, magari, ora, tanti ragazzi, penso, anche artisti, cioè, DJ, ragazzi della mia generazione, il lato, la tecno era in voga, era il lato drum code, ad esempio, e ci siamo, io, ad esempio, mi sono approcciato tanto con la musica, con il sound drum code. Poi, però, come ti dicevo, andando a indagare varie cose, anche nella dinamica, nella struttura delle tracce, delle produzioni, anche comprando tracce, vedevo che quel lato mi sembrava molto schematico, magari, e da lì è nata anche, ad indagarmi perché determinate tracce erano fatti in un determinato modo, e poi vedevo altri dischi che erano fatti in un altro modo, ed è lì proprio che è nata la mia ricerca musicale, proprio andare a cercare le varie dinamiche, evoluzioni della traccia, perché una determinata etichetta suona in un determinato modo, entrano i dischi, i vari strumenti, le varie parti di traccia, entrano in un modo rispetto a un altro, quindi il lato mio di ricerca è nato proprio ad andare a indagare nei vari set degli artisti che sentivo più e meno in voga, però comunque, andando a cercare il, diciamo, un po' lago, nel pagliaio, per capire proprio la cosa particolare, perché quel disco era famoso, perché quel disco era bello, cosa può piacere, cosa non può piacere, e da lì poi è molto semplice, a volte se cerchi un disco, io a volte facevo su Spotify, su Bandcamp, su SoundCloud, su tante cose, parti da un disco e poi ti ritrovi a tutt'altro, però è da lì che poi si apre a ventaglio proprio la ricerca. Quindi te, grazie anche a questa attenzione fai, hai iniziato anche a produrre? Mi presenta nella mia bio, mi considero un aspirante producer, anche perché, soprattutto, sto cercando di trovare il mio sound, il mio modo di produrre, in modo che da lì poi poter tirare fuori quello che veramente mi piace, perché spesso e volentieri, la fortuna di avere anche tanti ragazzi più avviati di me, anche tanti consigli che ho sentito sono, trova più il tuo lato, piuttosto che buttare fuori roba, perché magari te ne potresti pentire, magari potresti svariare la tua, cioè proprio snaturare la tua produzione, quindi cerco di trovare un modo, un modus operandi che sia consono alle mie, a quello che mi piace, non al momento, ma alla persona, ecco, perché poi comunque i trend, le mode, sono momentane. Esatto, io quello lì li evito proprio, cerco di fare una roba, come la chiamo io quando sento tanta musica, la chiamo timeless, ovvero senza tempo, perché ci sono dei dischi che, qualsiasi sia l'anno, qualsiasi sia il periodo e il momento, faranno sempre il suo lavoro in pista, e quindi io cerco di trovare una roba che non si lega a determinati trend, anche perché se ti leghi a questo modo, poi anche la tua carriera sia musicale a livello di produzione, che a livello di musica, sarà sempre legata a ricercare una nuova wave, quindi se sei magari fedele al tuo sound, puoi variare la velocità come va ora, che magari c'è un BPM più veloce rispetto a 3-4 anni fa, anche prima Covid, che era più lento, però è una roba che comunque è fedele al tuo sound, e quindi se io riesco a trovare proprio quel modo di produrre, anche se è più veloce o più lenta, però comunque rimane fedele al mio ideale, è quello che vorrei, sia nella musica e soprattutto nella produzione, perché è la produzione quello che ti fa da passaporto anche per l'esterno. E sul lato produttivo, qual è lo strumento che preferisci utilizzare? La macchinetta o comunque il suono su cui stai più attento? Io ti dico, ancora non ho avuto la fortuna, diciamo, anche in termine economico, comprare delle macchinette è una spesa molto elevata. Il plug-in, insomma, quello che preferisci. Sì, piano piano mi sto comprando, vabbè, dal computer ho comprato dalle varie cose per creare, diciamo, un setup base, come fanno tutti, però ti dico, ora sto riconoscendo a livello di VST, quindi a livello di computer, delle macchinette che emulano i sintetizzatori, che ora è veramente difficile, c'è comunque un costo elevato. Quindi VST, non ti saprei dire, magari l'SH101 della Roland, ma non ti nego, anche tramite Reason, vari campionatori che sono all'interno, che possano essere, fanno determinati suoni, però anche magari prendere dei, fare dei, croppare dei sample e comunque risuonarli anche con le macchinette, con dei sequencer nativi di Apple, comunque molta roba in the box. E quindi la parte della traccia a cui, diciamo, metti più cura, su cui fai più attenzione, ovviamente tutta la traccia deve essere curata, però il suono che pensi ti distingua magari più, ecco. Allora, ti dico, mi distingo, ancora io non ho rilasciato nulla, quindi quello che vorrei che mi distinguessi, io penso che, come parlo diciamo un po' per tutti, però ti dico, nell'ambito nostro, anche tecno, quello che va tanto è la bassline e il kick, soprattutto le frequenze basse, che è quello comunque la cosa sexy anche della traccia. Quindi quello ti deve distinguere, trovare un tuo kick, un tuo giro di bassline, che puoi fare con un synth, prendere dei tom, comunque quella roba lì, creare quella roba più oscura, però che ti fa muovere in pista, è quello che secondo me ti differenzia. Poi non ti nego anche le altre, soprattutto le drum, magari possono essere anche quelle lì, se riesci a variegare le varie drum, metterle insieme in vari modi, più fantasiosi, ti rende la traccia meno statica, però ti dico, la bassline, forse il kick, sono le cose più importanti, diciamo il low end della traccia, quello è la roba più, e poi anche dei bass synth, comunque delle percussioni, però viene dopo, però soprattutto il low end, quando suona bene il kick, il basso, e ti dà già quel movimento, che dici, cazzo, se io lo sento, scusami per la parola, se lo sento, se sento questo giro di kick, low end così, con il basso, e mi fa muovere, poi già quello che dopo, non è superfluo, però se già suona bene quello, il resto viene da sé, esatto. Ok, perfetto. E appunto, fai parte di un gruppo? Sì. Ok, parlami un po', ecco di... Sono con i ragazzi con cui abbiamo fatto lo showcase oggi, che siamo, collettivo, ci chiamiamo Modern Right, da poche settimane che abbiamo fatto un anno di attività, diciamo, è nata più per un'esigenza di esprimersi, e abbiamo avuto la fortuna di trovarsi, che viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo le stesse visioni di quello che ci garba, di quello che ascoltiamo fuori Firenze, soprattutto, perché diciamo che comunque tante influenze che abbiamo, le riceviamo da fuori Firenze, fuori da Firenze in senso Italia, ma anche in Europa, ed è quello che ci garba ebbe ricreare qui. Quindi abbiamo la fortuna, quello che mi piace di questo collettivo, noi siamo un collettivo che siamo molto affiatato, e abbiamo soprattutto le stesse visioni, tra di noi siamo variegati a livello di sound, però la visione del clubbing è la musica per la musica, non per l'immagine, non per tanto altro, ma è proprio... La filosofia è la solita. Esatto, e questo ci ha comune, quindi ci siamo trovati e è venuto da sé, quindi da un anno che facciamo eventi, abbiamo chiamato anche guest internazionali, però diciamo che sono contento, e questo è il collettivo di cui faccio parte, di cui siamo fondatori con gli altri ragazzi, siamo cinque ragazzi, diciamo, a moderare. Certo, molto bello, infatti appunto nell'altra intervista c'è stato proprio, cioè ho capito che c'è proprio un affetto proprio a livello di amicizia, oltre appunto che di progetto in setto, quindi questo è molto bello e anche secondo me aiuta molto a crescere, a far unire sempre di più. Sì, anche perché quando ti trovi veramente sulla stessa lunghezza d'onda, tutto il resto è superfluo, capito? Viaggi veramente verso la stessa meta, che è quella banalmente della musica, che magari ora sei persa, non è dell'immagine, non è del contesto, ma è veramente la musica per la musica, perché noi come evento nasce per suonare nei club, come ci piace, come vediamo all'estero, che ci sono tanti club all'estero, che hanno organizzazioni al suo interno, che portano la musica, e Cicarebrebbe portare anche a noi a Firenze, quindi è proprio una roba che magari il cliente non ci può scegliere già dall'inizio, però se abbiamo un club a disposizione, o comunque noi facciamo una serata in quel club, magari la clientela ci viene, si trova bene, magari ci ritorna, capito questo? Ed è musica da clubbers, perché noi ci riputiamo DJ, ma siamo comunque prima clubbers, cioè le nostre influenze le troviamo nel dance world, e quindi è quello che vogliamo ripetere a nostra volta. E invece appunto l'esperienza col pubblico, perché questo è anche un rapporto fondamentale, tu dici, io voglio far preparare l'aspetto appunto della musica, rendere la protagonista, e quindi come vuoi vivere l'esperienza qua col pubblico, cioè cosa vuoi trasmettere a chi ascolta? Allora, questo infatti è un punto un po' dolente per me, perché mi rendo conto a volte che mi assento, cioè nel senso guardo molto, guardo la pista, però a volte cerco di parlare con la musica, piuttosto anche con i gesti, con le movenze, a volte infatti mi rendo conto che comunque con il pubblico l'interazione che riesce a creare è più con la musica che magari con lo sguardo, con un cilindro a livello esterno, però poi trasmettere. Esatto, è come la cosa che mi garba a me, è proprio la musica, le braccia, non mia fisicamente, perché le mie stanno sul mix, stanno comunque a suonare, ma è la musica che abbraccia tutto il dance floor e li porta verso un unico obiettivo, che penso è quello di ogni DJ. Sì, esatto. No, bellissima filosofia, e ti vedo anche inoltre un'ultima domanda. Se non avessi fatto questo, cos'altro ti sarei piaciuto fare? O era l'unica strada che hai sempre deciso di prendere e su cui tuttora pensi che ci sarà e c'è un futuro che la renderà protagonista? Ma io ti dico, ti parlo da un ragazzo che comunque è un ragazzo che lavora e questa è una passione, io ancora la considero come una passione, quindi è una cosa che c'è e penso ci sarà sempre, spero che ne possa diventare, magari ne può diventare da una passione, ne può diventare un lavoro, ma se non lo diventa non è che questo preclude il proseguimento di questa cosa, quindi questa è una passione che c'è e rimarrà sempre. Cerco ovviamente, siccome siamo anche, ti parlo a livello di collettivo, e quando ci affacciamo anche con altre realtà ci considerano come ragazzi molto giovani, quindi magari siamo all'inizio, ora abbiamo difficoltà, però vediamo che questa è una passione, con il lavoro magari facciamo sacrifici, ma ora è così, magari in futuro sarà molto più lucente, quindi ti dico, la passione rimarrà sempre, magari più là chissà, magari può diventare veramente un secondo lavoro o un lavoro principale. Quindi diciamo non vi date comunque paletti o obiettivi da dover raggiungere? Ma gli obiettivi vengano, ovviamente va visto come un orizzonte a medio-lungo termine, ovvio, volessimo fare una roba che segue il trend, segue la moda del momento, magari sarebbe più semplice a livello di numeri, di soddisfazioni nel breve tempo, però noi cerchiamo di mettere le basi adesso, creare una fan base, e comunque creare un'attenzione a livello comunque cittadino e non, che noi ci siamo, facciamo questa roba e quello che ci piace e comunque vediamo è il riconoscimento da parte della scena, la nostra realness, che è quello che ci interessa soprattutto, essere fedele alla nostra musica. Molto bello e purtroppo non scontato perché appunto il giorno d'oggi, appunto come hai detto te prima, c'è necessariamente tanta utenza, tante persone che ogni giorno appunto cercano di poter entrare all'interno di questo mondo, è sempre difficile distinguersi, però secondo me questa è una filosofia giusta, è una filosofia che appunto col 100% di energie poi vi potrà dare diciamo un riscontro positivo. Io ora spero, ti ringrazio, spero che ti sia divertito. Grazie a voi, soprattutto per la giornata. Grazie a te e spero che ti sia sentito libero di suonare quello che volevi. Perfettamente. All'altro 160 e quando puoi passare insomma siamo qua. Grazie mille. Grazie mille ragazzi.